Viaggia con polizza assicurativa falsa, ma incappa in uno dei controlli stradali della Polizia Municipale, scopre il misfatto e successo alla vigilia del 25 aprile a Domodossola. L'automobilista è stato fermato in città. La richiesta di esibire l'assicurazione, l'uomo ha presentato il talloncino che ad una prima vista pareva essere del tutto simile a quello autentico. Ad il sospettire però gli agenti della Municipale è stato il fatto che la polizza non risultasse registrata nell'apposita banca dati del Ministero dei Trasporti, da cui verifiche più approfondite che hanno portato ad accertare la falsificazione. Documento ben confezionato comunque. Le indagini ora sono in corso per rintracciare gli autori della falsificazione, punibile solo se il proprietario della vettura decidesse di sporgere querela. L'auto nel frattempo è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di assicurazione. Tutta la documentazione relativa alla polizza è stata posta anch'essa sotto sequestro per disposizione dell'autorità giudiziaria. Dal comando della Polizia Municipale di Domodossola si ricorda che l'attività di falsificazione delle polizze assicurative crea un danno ai proprietari di veicoli che si trovano loro malgrado sprovvisti di copertura, pur avendo stipulato in buona fede il contratto assicurativo con quella che consideravano una compagnia affidabile. Le offerte particolarmente allettanti formulate da persone sospette possono nascondere tranelli ed è sempre opportuno segnalarli alle forze dell'ordine e soprattutto evitare di firmare contratti assicurativi senza aver prima verificato l'identità della controparte. Per evitare brutte sorprese, dicono ancora dal comando municipale domese, il consiglio è quello di affidarsi a professionisti seri ed accreditati.